Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo presentare le due stanze che ho preparato in Mozilla per la formazione. Questa è una stanza di accoglienza, come vedete ho messo un tavolo con un pc e anche tutto l'occorrente per fare una buona colazione, un divano, un cammino, dei quadri, un tappeto, un poster sull'utilizzo dei puzzle e degli esercizi interattivi nella didattica integrata, una libreria e in fondo potete vedere alla stanza un video YouTube sull'utilizzo di Mozilla ABS. Sono presenti anche i solidi platonici che avevo poi creato. Questa è una stanza quindi di accoglienza proprio. Nell'altra stanza invece ci sono dei poster dedicati alla formazione dei podcast e degli audio, sugli audio. Il primo è Vocalo, Reverb Chat, Recorder Online, poi vedete Anchor Podcast, Podcast, Spreaker, Podbean e ha poi Podomatic, presente anche iTunes, distribuzione dei podcast e ha poi anche una mappa sugli audio e i podcast. Si accede alle varie risorse, ossia ai siti di riferimento di audio e podcast attraverso i QR code che sono stati inseriti. Si poi ha la possibilità di consultare i tutorial su ciascuna delle applicazioni proposte, sempre accedendo attraverso il QR code, sia studenti o docenti punteranno il loro smartphone sul QR code inserito nei cartelloni e potrà poi consultare tutti i materiali disponibili che ho messo a disposizione. Come vedete ho allestito la stanza mettendo, vabbè ho messo il mio avatar e anche delle piante per abbellire, rendere più gradevole la consultazione dei materiali. Ecco adesso ritorno nella stanza di accoglienza e vi faccio rivedere magari l'ambiente, questo ambiente e il video YouTube. Grazie a tutti. Grazie a tutti.